Buonasera. Noi Scuola condanna senza mezzi termini le azioni squadristiche davanti ai licei fiorentini della scorsa settimana. Esprime pieno apprezzamento nei confronti delle prese di posizione e dei dirigenti, in particolare il dirigente del tecnico Salvemini d'Aosta e della dirigente del liceo scientifico Leonardo da Vinci. Ritiene totalmente inaccettabile il silenzio omertoso tenuto dal governo Meloni e inqualificabile il comportamento del ministro Valditara, ministro totalmente inadeguato a un incarico così importante come quello dell'istruzione. Aderisce alla manifestazione indetta dalla FLCCL per sabato 4 marzo pomeriggio.